17.43 su RM Stereo, volevo ricordarvi ancora una volta per l'ennesima volta i numeri telefonici 82 56 66 82 0502, vi aspetto al telefono e al momento vi regalo a Mika Paris Già al to be with you per Mika Paris su RM Stereo Allora, come state? Ancora state sulla spiaggia? Ci sono tanti ragazzi e anche signore e signori che si stanno ancora rotolando sulla spiaggia perché a quest'ora si sta veramente bene nel senso che non è più caldo come prima ma effettivamente uno si sta un attimino rilassando anche perché ormai uno ha, come dire, così l'idea è che il sole possa fronzare ugualmente almeno per queste ultime ore della giornata e poi insomma non sente più il caldo di prima Restate ancora perché RM Stereo vi terrà ancora a compagnia mi raccomando non vi lasciate influenzare dalle altre tentazioni, non ne vale la pena E dopo Mika Paris c'è una grande voce italiana che finalmente forse ha raggiunto la dimensione musicale è ideale, un grande al 33 giri, questo dal titolo Il Portico di Dio questo è il pezzo con il quale si è presentato al Festival di Saremo di quest'anno e vi ordaniso con il mare più grande che c'è e vi ordaniso con il mare più grande che c'è